23 giugno 1969 esce il primo numero del periodico Il Manifesto. Si tratta in origine di una rivista politica mensile diretta da Lucio Magri e Rossana Rossanna. Alla redazione del primo numero, con una tiratura di 75.000 copie per le edizioni Dedalo, partecipano Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luciana Castellina e Ninetta Zande Giacobbi. Il Manifesto raccoglie le opinioni della componente più a sinistra del Partito Comunista Italiano, guidata da Pietro Ingrao, in contrapposizione a quella più moderata, capeggiata da Giorgio Amendola. In molti casi la rivista assume posizioni dure contro la linea maggioritaria del PC, in particolare si schiera apertamente contro l'invasione della cecoslovacchia da parte dell'Unione Sovietica.